Non parliamo di letteratura, ne preciso parliamo di Dice Angelica, un romanzo edito Salani che analizza un tema molto importante, ponendo l'attenzione sulle volontà di tutte quelle donne poste al centro di grandi azioni eroiche. Personaggi purtroppo e a noi visti semplicemente solo come trofei per l'eroe di turno e alle quali non viene mai chiesto se gli stia bene a ricoprire quel ruolo e a mettere in evidenza questo aspetto, questa tematica, ci pensa il nostro ospite in collegamento a Vittorio Macioccio, giornalista nonché editorialista di Il Giornale e ancora opinionista di Sky e La Sette e autore naturalmente di questo splendido romanzo. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno. Allora molto interessante, dice Angelica, anche il titolo diventa evocativo ed esemplificativo della tematica di cui stiamo discutendo con lei che è al centro di questo romanzo che appunto racconta in modo assolutamente singolare il punto di vista di tutte quelle donne che sono l'obiettivo di grandi eroi e di grandi gesta. Sì, Angelica è chiaramente l'Angelica dell'Orlando Furioso, il personaggio che muove tutta l'epopea di uno dei poemi classici della letteratura italiana. Solo che Angelica nell'Orlando Furioso è soltanto una preda, quindi non dice il suo punto di vista, non racconta il suo punto di vista e io ho cercato di giocare un po' con Ariosso per raccontare il punto di vista di Angelica. Ed è un punto di vista molto contemporaneo perché l'Orlando Furioso è l'origine non soltanto del nostro, del fantasy occidentale perché poi tutto viene da lì, dall'ippogrifo agli anelli magici, ma perché Angelica è una ragazza che viene da molto lontano, dal Bracca, dalla Via della Seta e cerca un posto in occidente. E quando arriva in occidente, per le sue arti di seduzione, che sono quasi una condanna, si ritrova tutti gli eroi che la inseguono per insidiarla. Esatto, per insidiarla in quest'ottica effettivamente lei ha detto bene, un termine giusto, lei è causa della follia sia di Orlando ma anche l'ira degli altri cavaliere che per l'appunto la insidiano. E senza mai preoccuparsi di quelle che sono le reali volontà o i desideri di Angelica, che magari non vuole essere salvata, nessuno glielo chiede. Non solo non vuole essere salvata, anche se in alcune occasioni lei ricorre alle sue arti anche per chiedere aiuto, ma Angelica la bisogna raccontarla in realtà come una Instagrammer o una TikToker di oggi. È un influencer, è una ragazza che influenza i destini degli altri. Che cerca il suo posto nel mondo, insomma. Cerca il suo posto nel mondo e dà anche una particolarità. Lei ha un anello magico, un anello per difendersi dalla magia, che le permette di distinguere ciò che è reale da ciò che è immaginario, da ciò che è virtuale. Quindi è un anello molto utile anche oggi, perché lei è l'unica in questo gioco, che è l'Orlando Furioso, ad avere la consapevolezza che non tutto ciò che accade è reale. Posso chiederle come è stato per lei interpretare e mettere appena su carta i pensieri di una giovane ragazza, una ragazza tra l'altro attuale, ma comunque di una giovane donna? Non è stato affatto facile, anche perché ho cercato la sua voce per circa due anni e poi ho fatto uno sforzo di empatia, cercando anche di raccontare, mettendomi a specchio anche rispetto alle donne che ho conosciuto e che ho amato. Quindi diciamo che Angelica è la mia antimateria, è il punto di vista femminile di un uomo che ha cercato di trovare l'empatia nei confronti di una donna. Ed è vero, è una donna, è un'adolescente, Angelica nell'immaginario rando furioso ha se no 16-17 anni e quindi mi sono anche aiutato con TikTok, ho cercato di vedere non soltanto il pensiero, ma soprattutto il modo di muoversi, la capacità di Angelica di sedurre naturalmente. E' sicuramente un romanzo che, sebbene riporti a quella che è comunque la storia dell'Orlando furioso di Torquato Tasso e quindi ci riporti davvero indietro nel tempo alla filosofia dei Cavalieri e anche della tavola rotonda, possiamo dire che quest'opera e questo romanzo sia comunque specchio e riflesso di una società contemporanea ben precisa, dove ripetiamo la donna ha la volontà di essere donna in tutte quelle che sono le sue accessioni, le sue sfumature, le sue fragilità, ma senza che per questo debba essere condannata e o giudicata del suo modo di agire, del suo fare. Guarda che il 500 in cui è ambientato, in cui è scritto Orlando furioso, quando Orlando furioso è un sequel dell'Orlando innamorato, di Boiardo, poi c'è Riosso, ma in quel 500 sotto la corte di Ferrara le donne hanno un ruolo molto importante, c'è Isabella Adesse, Ferrara, che è una donna che comincia a chiedere l'emancipazione delle donne, c'è un clima in cui la donna non è soltanto la donna venerata o la donna angelicata, La donna angelo, così come era anche nell'epoca precedente. Sì, è una donna che si incarna. Che si incarna anche nella materia, nel senso proprio nella fisicità, e quindi comincia ad assumere tutt'altro valore, tutt'altra funzione. Ed è la controriforma, se vogliamo, cattolica a spezzare quella linea. Quindi in qualche modo noi abbiamo perso qualche secolo nella emancipazione femminile. Il mio è un atto d'amore chiaramente verso Orlando furioso e verso un poema che magari lo consideriamo scolastico, ma è di una modernità incredibile. È vero, è talmente moderno, e concludo con questo aspetto, perché mi piace ricordare al pubblico che lei ha dichiarato che da sempre ha pensato che l'Orlando furioso potesse rappresentare una trama da videogame perfetto. Perché è un grande gioco, perché all'interno dell'Orlando furioso c'è il combat, con i cavalieri che si sfidano, c'è l'avventura, quindi è in qualche modo un arcade, pensiamo a qualcosa di simile a Prince of Persia. È un videogame di ruolo, perché i personaggi sono anche delle maschere, ed è soprattutto, ha inventato tutta la nostra narrazione. Faccio solo un esempio per finire. Noi siamo abituati, nelle serie tv, che le puntate finiscono lasciando la curiosità per la puntata che viene dopo. Bene, ogni capitolo dell'Orlando furioso... Crea quella sospanso per poi proiettarci al prossimo capitoletto. Sì, ed è un'invenzione di Ariosso. È vero. Senti, la Ecapo redattore, editorialista del giornale, Dani, una delle migliori penne del giornalismo culturale italiano. Questo primo romanzo ha riscorso tantissimo successo. Ci sarà un prossimo, se sì, quando? Sì, ci sto lavorando, forse io ci metto tempo a scrivere, quindi, non so, forse ho due o tre anni. Noi lo presenteremo qua, con un immenso piacere. Intanto godiamoci la lettura di Dice Angelica, edito Salani, del nostro autore, a raccontarcelo quest'oggi, Vittorio Maciocci. Grazie per avermi invitato. Ma grazie a lei, è stato un piacere, davvero, complimentissimi. A presto, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Pubblicità.